buongiorno a tutti e ben ritrovati oggi andremo ad affrontare questa lezione introduttiva sui filtri e il filtraggio dei segnali abbiamo visto da poco i quadripoli i filtri fanno parte comunque anche del mondo dei quadripoli anche se poi possono essere trattati a parte i filtri sono dei dispositivi fondamentali in quello che è il campo elettronico poiché permettono di separare quelle che sono le componenti di un segnale in base alla frequenza in questo modo possiamo si possono estrapolare quindi possiamo elaborare solo le componenti che sono rilevanti per una determinata applicazione ad esempio per pensiamo a quella che è una stazione radio un filtro ci consente di selezionare la specifica frequenza che ci interessa rispetto a tutte le altre e ci permette anche di eliminare quelle che sono le interferenze in modo da avere una ricezione più chiara del segnale i filtri poi sono impiegati in tante altre applicazioni anche complesse come l'elaborazione video audio le conversioni di segnali analogici digitali e anche in campo biomedico per andare a elaborare quelli che sono i segnali biomedici e le caratteristiche delle diagnostiche. Bene, visto l'importanza dei filtri andiamo a vedere qualche informazione generale insieme e poi nelle prossime lezioni andremo ad approfondire i vari dettagli e andremo a vedere in modo un po' più approfondito il tutto. Allora filtri e filtraggio dei segnali. Oggi risponderemo insieme a queste domande. Che cos'è un filtro? Da cosa è caratterizzato? Come si definiscono i filtri? Come vengono classificati? Che cos'è l'ordine di un filtro? E a che cosa serve filtrare un segnale? Bene, analizziamone uno per uno e cerchiamo di dare una risposta semplice ma intuitiva anche. Che cos'è un filtro? Allora un filtro è un quadripolo, quindi la nostra solita scatola con due terminali di ingresso e due terminali di uscita dove terminali di ingresso, segnali di ingresso, terminali di uscita, quello che passa attraverso il quadripolo. Questo quadripolo lascia passare oppure blocca determinate frequenze del segnale di ingresso, quindi a seconda del tipo di segnale che arriva in ingresso, POS può passare oppure può non passare. Supponiamo ad esempio di avere un segnale sinusoidale in bassa frequenza come quello illustrato. In questo caso supponiamo che questo segnale abbia una frequenza idonea al passaggio, quindi il filtro lascia passare il segnale. Supponiamo poi di avere invece un segnale in alta frequenza, in questo caso ad esempio a seconda del tipo di filtro il segnale verrà bloccato e quindi non passerà all'uscita, semplicemente passa o non passa. Ora, il filtro è caratterizzato da determinate caratteristiche, quindi determinati parametri, quelle che sono la chiamata banda passante e la banda passante non è altro che l'intervallo di frequenze in cui la risposta in ampiezza è circa costante, quindi la banda, l'intervallo di frequenze in cui il segnale passa all'uscita. Una banda oscura invece è l'intervallo di frequenze in cui la risposta in ampiezza è nulla, quindi il segnale non passa e le frequenze o pulsazioni di taglio, quindi F o omega, che sono i valori che corrispondono alle transizioni tra le bande, cioè tra la banda passante e la banda oscura, si passa attraverso delle frequenze che vanno proprio a battezzare quelle che sono le varie bande. In realtà esiste anche poi la banda di transizione, poi magari la tratterò in video successivi, che è quella tra la banda oscura e la banda passante, però queste sono diciamo le caratteristiche principali. Ora andiamo a fare un esempio e vedere che cosa succede. Supponiamo di avere il grafico di un guadagno rispetto alla frequenza e supponiamo ad esempio, come in questo caso, un filtro ideale. Il guadagno sarà squadrato in questo modo, invece a differenza di quello reale sulla destra e che cosa succede? In questo intervallo, come vedete, tra quella che è la frequenza FL, la frequenza low e la frequenza high, quindi tra le due frequenze, il segnale passa, quindi ho un guadagno piatto, mentre all'esterno di questo intervallo di frequenze il guadagno è nullo. In realtà il filtro reale sulla destra non ha proprio un andamento così squadrato, ma una transizione tra banda passante e banda oscura più dolce. Quello che vedete poi tra le due freccette nere, quindi tra FL e FH, viene poi chiamata la banda, quindi la larghezza di banda del filtro. Come vedete poi inoltre sulla destra, quindi nella rappresentazione reale, avete che la parte piatta è dove il guadagno è massimo e poi invece si hanno la corrispondenza delle due frequenze di taglio, bassa e alta, dove il guadagno, in questo caso, è il valore massimo fratto radice di 2, che sarà poi quella la corrispondenza che andremo a vedere, a studiare con i diagrammi di Bode, quei famosi meno 3 dB, quindi meno 3 dB di corrispondenza di abbassamento rispetto al valore massimo. Però poi questo lo vediamo con calma quando andremo a studiare filtro per filtro. Quindi qua abbiamo la banda passante, mentre qua abbiamo le bande oscure. Può essere la banda oscura un intervallo solo, oppure ad esempio in questo caso esterne sono due parti, due bande oscure. Per intenderci, in questo caso, se arriva un segnale di ingresso inferiore a quello che è la FL, il segnale non passerà, quindi cadrà in banda oscura, mentre se arriva un segnale e così se il segnale arriva con una frequenza più alta di FH. Mentre se arriva un segnale con una frequenza in quell'intervallo, il filtro permetterà il passaggio. Ora vediamo come si definiscono i filtri. I filtri si definiscono o passivi o attivi. I filtri passivi sono quelli che vengono realizzati solo con componenti passivi, quindi resistori, condensatori, condensatori, induttori. I filtri attivi invece sono quelli che impiegano componenti attivi come gli amplificatori operazionali classici, oltre a quelli che sono i componenti passivi, quindi hanno all'interno anche dei componenti attivi. Questo che cosa implica? Implica che nel filtri passivi il guadagno massimo, quindi ricordiamo sempre il guadagno è il rapporto tra quello che è il segnale di uscita, la tensione di uscita e la tensione di ingresso. Il guadagno massimo, in questo caso, se sono passivi, sarà minore o male che vada, cioè bene che vada, al massimo sarà uguale a 1, quindi al massimo avrò in uscita il segnale di ingresso, ma in genere verrà attenuato. Quindi, se vogliamo parlare in dB, in decibel, avremo un guadagno minore o uguale a 0 dB. Per quanto riguarda invece i filtri attivi, hanno il vantaggio, hanno la caratteristica di avere un guadagno, di poter avere un guadagno maggiore di 1 e quindi in dB avremo un guadagno maggiore di 0 dB. Che vantaggi e svantaggi presentano i filtri attivi? Allora, innanzitutto i vantaggi. Il primo vantaggio è quello di poter ottenere un guadagno, quindi io posso amplificare il segnale di ingresso, oltre a filtrarlo, e questo è una gran cosa. Il vantaggio sono i costi e le dimensioni, perché posso realizzare anche a livello integrato e quindi abbattere i costi e le dimensioni. Un effetto ridotto di quelle che sono le capacità parassite introdotte e, come ho detto, la possibilità di integrazione, che poi va di pari passo con il costo e le dimensioni. Ma ci sono degli svantaggi. Hanno una banda ridotta rispetto ai filtri passivi e hanno una sensibilità a quelle che sono le variazioni dei componenti attivi e a rumore, una sensibilità a rumore, quindi possono creare derive e distorsioni. Inoltre, hanno lo svantaggio che richiedono un'alimentazione e quindi anche quella è un qualcosa in più da tenere conto. Ovviamente, diciamo che i vantaggi spesso sono più importanti degli svantaggi. Infatti, i filtri attivi sono estremamente utilizzati ed estremamente diffusi. Ora, vediamo come vengono classificati i filtri. In base a quello che è l'andamento della risposta in ampiezza, quindi quello che abbiamo visto il guadagno poi in fondo del filtro, vengono denominati in questi modi qua. Filtro passa basso, quindi i nomi già sono abbastanza evocativi della funzionalità che supportano. La banda passante si trova sotto il valore della frequenza di taglio, quindi ci sarà un valore di frequenza e la banda passante sarà sotto quel valore di frequenza. Il filtro passa alto, invece il contrario, la banda passante si trova sopra il valore della frequenza di taglio. Il filtro passa banda, abbiamo la banda passante che si trova all'interno di due frequenze di taglio, come il disegno che abbiamo visto prima e che adesso rivediamo. Il filtro elimina banda, questo attenua le frequenze comprese tra le due frequenze di taglio, quindi sempre due frequenze ma in quel campo lì attenua. Ora andiamo a vedere questo, ad esempio, come vedete, frequenza di taglio, la parte alta vedete che è in bassa frequenza, quindi questo è un passabasso. Qui vedete la banda passante. E la frequenza di taglio in corrispondenza della gmax fratto radice di 2. Qua sotto abbiamo, invece, un passalto. Vedete che qua avete la banda passante, quindi per un valore di f maggiore alla frequenza di taglio e la frequenza di taglio è sempre corrispondente al valore massimo del guadagno fratto radice di 2. Poi qui abbiamo il passabanda e la banda passante compresa tra i due valori di frequenza più basso e più alto e in corrispondenza dei due valori delle due frequenze di taglio abbiamo sempre il guadagno che è uguale al guadagno massimo fratto radice di 2. Infine abbiamo quello che è l'elimina banda dove abbiamo l'attenuazione della banda all'interno di queste due frequenze, quindi in questo intervallo. Sia il passabanda che l'elimina banda ovviamente possono essere a seconda della distanza tra le due frequenze più ampi oppure più stretti, quindi in realtà possono andare a far passare un campo ristretto di frequenze oppure un campo piuttosto largo e allo stesso modo andare ad attenuare e quindi comunque avere un'attenuazione in un campo ampio oppure in un campo ristretto. Ora abbiamo visto le varie informazioni, vediamo che cosa è anche l'ordine di un filtro, quindi si parla di filtri di un certo ordine. Allora in generale quello che è l'ordine di un filtro corrisponde in modo semplice al numero di componenti reattivi indipendenti, condensatori e induttori utilizzati nel filtro. Quindi questa è proprio la spiegazione più intuitiva. Si contano il numero di componenti reattivi, devono essere indipendenti, quindi ovviamente non posso ricondurmi ad avere un condensatore o un induttore in serie perché in qualche modo uno prevarrà sull'altro e quindi non sono più indipendenti. Si dice filtro del primo ordine se contiene un solo componente reattivo. Questo vuol dire che nella funzione di trasferimento questo componente diventerà uno zero o un polo, quindi la funzione di trasferimento avrà uno zero e un polo. Poi andremo a vedere questo che cosa significa nel dettaglio ed è molto importante la differenza tra, in genere poi si studiano i filtri del primo e del secondo ordine, ma poi ci sono anche i filtri di ordine superiore. Si dice filtro del secondo ordine se contiene due componenti reattivi, quindi nella funzione di trasferimento questi diventeranno due zeri o due poli. La differenza tra uno e l'altro sta semplicemente nella rapidità del taglio, ma questo lo vediamo poi quando facciamo il confronto tra lo studio del guadagno in frequenza e invece con le funzioni di trasferimento e con i diagrammi di Bode. Quindi poi vediamo a confronto queste due cose e si comprenderanno meglio. Questo volevo fare solo un video, una carellata introduttiva sui filtri. Quindi ordine di un filtro e abbiamo visto che cos'è. Ora, a che cosa serve filtrare un segnale? L'abbiamo già visto nella chiacchierata introduttiva, andiamo a rivedere il perché è importante poter filtrare un segnale. Intanto perché filtrando posso rimuovere le componenti del rumore, quindi a seconda del tipo di rumore posso filtrare e posso ripulire il mio segnale da quelle che sono delle componenti che sono indesiderate. Posso quindi estrarre informazioni inutili da quelle che è un segnale complesso, quindi quando ho più segnali, che siano rumori o che siano segnali sommati, io posso andare a dividere i singoli segnali o ad estrarre quello che mi interessa e poi quindi andare ad elaborarlo. Posso separare le diverse componenti di un segnale misto, quindi anche in questo caso posso fare una separazione e poi la cosa più semplice che viene in mente ai miei tempi quando si facevano gli impianti audio delle macchine, le prime cose che si facevano ai miei tempi era quello, quindi pianare delle macchine, separare ma in qualsiasi impianto audio voi avete comunque crossover che vanno a separare quelle che sono le basse frequenze, le medie frequenze, le alte frequenze e queste vanno ai rispettivi altoparlanti, quindi questo viene fatto tramite filtri. La modifica delle caratteristiche spettrali in audio e video, quindi sempre anche qua elaborazione di segnali audio e video per ottenere degli effetti voluti, desiderati e quindi questo diciamo è tutto quello che abbiamo visto sul discorso dei filtri. Abbiamo visto come si classificano, che cosa servono, le tipologie, quelle che sono i filtri principali di classificazione. spero che questo video vi possa essere d'aiuto, di essere stata chiara, fatemelo sapere nei commenti. Vi chiedo anche di farmi sapere se per voi le presentazioni in PowerPoint e così sono più fruibili e vi piacciono come idea, perché ci perdo un sacco di tempo e non è che mi faccia proprio tanto. Io preferisco andare in presa diretta e parlare liberamente, poter scrivere un po' come faccio sulla lavagna ed altro. Queste sono un po', però vedo che comunque almeno sui primi argomenti e l'introduzione di un argomento in effetti fanno più bella figura, sono più carine, quindi comunque non vi prometto che ne farò tante, ma magari se sono utili e se piacciono mi ci dedicherò di più. Bene, vi ricordo di iscrivervi al canale, di cliccare sulla campanellina per attivare le notifiche, mettere un mi piace se vi piace il video e ci vediamo alla prossima lezione. Grazie. Grazie. Grazie.